Una borsa di studio in memoria di Carlo Spini e Gabriella Viciani, la coppia retina, lui medico e le infermiera, da anni impegnata nel volontariato e nella cooperazione sanitaria internazionale, morta domenica scorsa nell'incidente aereo ad Addis Abeba in Etiopia, a finanziarla la regione toscana tramite il suo centro di salute globale. La borsa di studio servirà a finanziare una tesi di laurea in medicina e chirurgia da realizzarsi in uno dei paesi dell'Africa dove la regione interviene con progetti di cooperazione sanitaria internazionale. Mi sembra il modo migliore per onorare due persone generose, ha detto l'assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi, che hanno dedicato la loro vita alla cooperazione sanitaria e alla solidarietà nei confronti delle persone meno fortunate. L'amministrazione comunale di Sansepolcro ha inoltre indetto un giorno di lutto cittadino che sarà osservato domenica 17 marzo in concomitanza con una messa solenne che alle 16 sarà celebrata nella concattedrale di Sansepolcro dall'arcivescovo Riccardo Fontana assieme ai sacerdoti del Borgo. Proseguono infine in Etiopia le complesse operazioni di identificazione delle salme. Sarà infatti necessario l'esame del DNA. Le condizioni dei corpi rendono infatti purtroppo difficile il riconoscimento visivo. I campioni di DNA dei parenti delle vittime dopo essere stati raccolti saranno inviati in Etiopia per poter così dare finalmente un nome alle salme. Terminate queste operazioni si potrà parlare di rimpatrio, ma si parla comunque di procedure lunghe, se non lunghissime.